A inizio la cerimonia di consegna dell'onoreficenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Primo logotenente, Ventre Vito. Questa mattina la consegna dell'onoreficenza di Cavaliere al merito della Repubblica agli uomini e alle donne della Marina Militare che hanno contribuito moltissimo al servizio della comunità anche in quest'anno contrassegnato dalla pandemia. Credo che sia proprio un riconoscimento per quello che i militari in genere, in particolare la Marina Militare, hanno fatto in supporto dell'emergenza sanitaria. Noi siamo impegnati in questo momento su tutti i fronti, distribuzione dei vaccini, test e riteniamo che sia un lavoro di qualità che possa contribuire a far riprendere al nostro Paese la qualità di vita a cui siamo tutti abituati nel più rapido tempo possibile. Una cerimonia che costituisce un ulteriore tassello nella ripresa della vita all'interno della nostra comunità. Oggi è un giorno importante per queste persone che vedono riconosciuto il loro impegno, la loro professionalità e la loro passione. Importante per loro e per le loro famiglie. Ma certo è importante per tutta la comunità spezzina perché sono tanti piccoli passi verso la nuova normalità di questa fase fine, di questa fase pandemica per cui tutti siamo impegnati a operare.